Siamo qui alla settima edizione della Spezia Comics and Game con gli autori di Pellinia. Allora ragazzi, come sta andando questo primo giorno? Direi bene, noi siamo arrivati nel pomeriggio ed è arrivata anche l'affluenza di gente con noi, quindi anche la pioggia, però vabbè, la pioggia è rimasta fuori, la gente è arrivata dentro, quindi lo vedi così. Siamo affrontando le interferie del tempo, la pioggia, i fulmini, i tuoni con indomita fulore. Siete disturbati da Stadio Cuore del Cuore della Vatte? Provate un senso di terrore in soffitto e in gardina? Voi e i vostri familiari avete visto spiriti, spiriti o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate, prendete il telefono e chiamate i professionisti. E a chiappa fantasmi! 24 ore su 24, per le vostre esigenze di eliminazione del paranormale. Siamo pronti a credere in voi!